Si attende solo il via libero dell'ufficio scolastico regionale, poi entrerà in vigore a tutti gli effetti. Stiamo parlando della rivoluzione delle scuole superiori messa in campo dal ministro Gelmini e realizzata dalla provincia in accordo con l'ufficio scolastico provinciale e tutte le componenti di questo mondo. 50 incontri per arrivare ad un documento che cambia la geografia scolastica della provincia. Il via libera sarà per il prossimo anno scolastico. Ci sono 208 indirizzi, 70 quelli nuovi circa un terzo. E toccano quasi tutti i poli scolastici della provincia. Restano infatti invariati gli istituti presenti in città, il Fantoni, il Sarpi, il Secosuardo, il Mascheroni, il Falcone, il Belotti, il Vittorio Emanuele, il Quarenghi e quelli di Treviglio, l'Oberdan e il Simone Veil. Cambia invece radicalmente l'offerta formativa in provincia e sicuramente la novità più importante è la nascita del secondo liceo classico che arriva insieme al vecchio scientifico ad Alzano Lombardo. Una rivoluzione che toglie il primato all'unico classico statale ora presente in provincia, il Sarpi di Città Alta. Il liceo scientifico insieme all'informatica e ai servizi sociosanitari è invece la novità per l'Istituto Superiore di Gazaniga e al Federici di Trescore arriva il liceo linguistico. Sempre per i licei al Don Milani di Romano di Lombardia partirà il nuovo indirizzo del liceo delle scienze umane. Cambiano anche i programmi dei licei, muore il liceo scientifico e nasce il liceo scientifico delle scienze applicate. Rivoluzione anche per i professionali. Ad ogni vecchio istituto professionale viene associato l'Istituto di Formazione Professionale. Il primo è di 5 anni, il secondo di 3. L'iniziativa tende a rispondere ad un cambiamento di interessi dei ragazzi che fanno questa scuola. Tanti gli indirizzi nuovi tesi a rispondere soprattutto alle esigenze di personale del territorio, dal turismo agli addetti alla vendita fino ai tecnici dello sport e del tempo libero o agli addetti degli impianti fotovoltaici e solari. Un'offerta varia che non è definitiva, infatti oltre al via libera dell'ufficio scolastico regionale i corsi partiranno solo se raggiungeranno i 27 iscritti. Quindi per le scelte è sempre meglio tenere un indirizzo tra quelli classici, licei o istituti tecnici di riserva. Nel caso questo limite non fosse raggiunto.